La Regione tira dritto sulla riforma del Consorzio di Bonifica, l'ente che cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di Bonifica e controlla l'attività dei privati sul territorio di competenza. La riforma, proposta dall'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente, punta a ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla gestione associata dei consorsi e alla separazione tra l'organo di indirizzo e quello di gestione del Consorzio di Bonifica. Critiche le opposizioni, secondo cui la riforma incrementerebbe i costi di gestione, aumenterebbe le poltrone, complicherebbe la burocrazia e leterebbe all'indipendenza degli agricoltori. È emerso anche in questa occasione che per quanto riguarda quest'ente così importante per il settore primario, per gli imprenditori agricoli, per le istituzioni in generale, la volontà dell'aggiunta lente è quella di presentare una finta riforma che in realtà vuole semplicemente espropriare agli agricoltori i consorsi commissariando i consorsi stessi. Voglio soltanto ricordare infine che la regione non mette soldi sui consorsi ma in questo caso pur mettendoceli appunto il mondo dell'agricoltura e in particolar modo gli agricoltori e gli imprenditori agricoli se ne appropria facendo un commissariamento forzato. Dopo otto mesi la giunta lenta si occupa ancora di poltrone e nomine.